Quinte partiti dall'interno Baio Loco, Messi Foot, fa partenza anche Usnext, all'esterno c'è anche Abrasivo con alla fine Baio Loco che forza per andare davanti insieme a Usnext, i due che sono in linea su Abrasivo e Messi Foot, questi primi 4 all'interno c'è Usnext che prende l'iniziativa su Baio Loco, Abrasivo all'esterno di Messi Foot, poi il top weight che è Holly Imperor con di fuori la giubba blu e il cap giallo di Wood Green, questi sono i primi 6 dello schieramento, poi Mingherlina a contatto Ifra Rouge con all'esterno Kailash in coda, sono patto d'acciaio con vicino Beaumari ed in coda, leggermente staccato, galoppa Vitaliano, questo è lo schieramento completo con Usnext che non si risparmia in avanti, Baio Loco, Messi Foot, Abrasivo, Wood Green, All'Imperor, Mingherlina, Kailash all'interno Ifra Rouge, patto d'acciaio con all'esterno Beaumari in coda, Vitaliano così sulla piegata con Usnext che ha sempre 4-5 lunghezze, non si risparmia in avanti, prova a giocare la carta del pesino, il suo interprete, l'allievo Andrea Fresu con sempre in scia, immagini che vanno verso il fondo del gruppo con Beaumari che prova a inseguire insieme a patto d'acciaio e Vitaliano, torniamo davanti, Usnext, Baio Loco che braccia e frusta, poi prova a unirsi alla lotta anche Messi Foot, Usnext che ha provato a giocare la carta del netto anticipo della fuga, traguardo lontano con i concorrenti che sono all'imbocco della piegata conclusiva, all'esterno muove con decisione Wood Green che si trascina all'interno, Messi Foot di fuori Abrasivo per il momento dalle retrovie non guadagna nessuno, con Messi Foot e anche Wood Green che vanno su Usnext, dalle retrovie prova anche Ifra Rouge, patto d'acciaio, il favorito che è ancora dietro con Usnext, ha speso tantissimo però, che è ancora in vantaggio, Wood Green che si lancia nel suo seguimento, il contropiede di Wood Green che prova ad anticipare la risalita di Messi Foot, all'esterno c'è anche Ifra Rouge, poi più indietro gli altri con Usnext che però ancora a caparbia in avanti, all'esterno Ifra Rouge, Usnext in vantaggio, Ifra Rouge all'esterno che ci prova, Usnext che è scappata, Usnext. Next, su Ifra Rouge, Messi Foot, poi per la quarta c'è Wood Green per il quinto Olimperor. Next, l'allievo Andrea Fresu da un capo all'altro, che vittoria. La quota interessante è 28,05, colpo a sorpresa. Ifra Rouge, che è ottimo secondo, e poi come detto tutti quanti gli altri nel quintet, che vede anche la presenza di Olimperor, di Wood Green, ed in Messi Foot. Quadratura per la vincitrice, Usnext, Andrea Fresu, come detto la numero 10, che vince questa...